C'è un solo vantaggio nello stare un po' troppo fuori dall'Italia, è quello di guardare le cose italiane in modo distaccato, anche una lettura meno attenta dei giornali, come si può fare quando ci sono molte ore di fuso all'aria e si gira per il mondo, può dare una sensazione non di un marziano a Roma, ma da un marziano romano che sta all'estero, mi scuso con tanti di voi che mi hanno chiesto che fine ha fatto la zuppa per una settimana, meno zuppa e diciamo un po' più di riposo. Allora una delle questioni che mi piace fare a questo punto è raccontare come si vede questa crisi all'estero, o meglio come la vedo io all'estero, non voglio fare il presuntuoso. La cosa è molto semplice, anche se noi leggendo tutti i giornali la vediamo molto complicata, è cioè che uno dei soci di maggioranza di un sistema elettorale parlamentare come quello italiano, uno dei soci di maggioranza, cosa non inedita nella nostra Repubblica, decide di non far più parte di quella maggioranza per i suoi motivi buoni, giusti o sbagliati. E come bene forse ha detto ieri lo stesso soci di maggioranza, lo ha deciso di fare ad agosto. Noi eravamo il paese in cui si dicevano perché ad agosto si chiude tutto, in effetti si chiude meno di quando c'erano le fabbriche, si chiude anche questo governo. Conte si dimette, lo insulta, il Presidente del Consiglio insulta il suo Vice Ministro, il Vice Ministro insulta il suo Presidente del Consiglio. Peraltro negli ultimi sei, otto mesi non facevano altro che insultarsi su una cosa, soltanto erano dati purtroppo d'accordo Grillini e Movimento 5 Stelle, già questo avrebbe dovuto far gridare lo scandalo mentre noi siamo stati zitti. E cioè fare una specie di patto solo su una cosa, uno spendeva 7 miliardi per il reddito di cittadinanza orrendo e l'altro per quota 100, altrettanto forse un pochino meno ma piuttosto orrenda anch'essa. Cioè soldi pubblici nostri spesi per il loro torno a conto elettorale. Ma quando questo socio di maggioranza dice ragazzi con questi non ce la faccio più, cosa che era intuibile anche prima, beh insomma si fa un gran baccano sul fatto che questo signore perché ha deciso ad agosto, perché Salvini ha deciso ad agosto a togliere la spina, poteva scegliere prima, certo, noi tutti avremmo preferito prima, ma ha scelto ad agosto. Perché vuole andare alle elezioni questo cattivone? Perché vuole andare alle elezioni? Perché quando una maggioranza per quanto rosicheata cade si va ad elezioni in un paese normale. Insomma il punto fondamentale guardandolo da Marziano che non è a Roma ma che è all'estero è, signori se è caduto un governo e uno dei soci del governo chiede di fare, del passato governo chiede di andare alle elezioni, qual è il problema? Esiste un problema? Sì perché dobbiamo fare le nomine europee, beh per quelle che abbiamo fatto, l'ultima Renzi con tutti i crismi, con tutta la maggioranza ci ha fatto la Mogherini. Allora insomma vi rendete conto quanto è importante ponderarle bene? E prima i vecchi governi della prima repubblica facevano nove milioni europei di commissari europei che se ne andavano le prime elezioni perché non ci vogliono stare in Europa e non hanno costruito quella classe dirigente europea. E adesso invece pretendiamo una specie di rigore incredibile all'Italia. Certo sarebbe meglio averlo ma non mi scandalizza se non c'è. E poi si dice bisogna fare la finanziaria. E come fanno Spagna che va a votare ogni sei mesi? O Polonia che voterà ad ottobre? Come ha fatto notare ieri Salvini oggettivamente. Insomma la cosa sostanziale, io non sto facendo la zuppa ma forse ragazzi non ve ne pentite troppo perché la cosa è molto semplice. Un governo cade, una maggioranza assurda cade, stanno cercando di trovare una maggioranza alternativa. Nella maggioranza alternativa ci starebbero da Renzi a Di Maio a Di Battista all'ex presidente del Senato Grasso. Allora, secondo voi, basta che voi chiudiate gli occhi di qualsiasi partito voi siate. Chiudete gli occhi, non c'è bisogno di stare a Las Vegas per scommettere. State ovunque ancora nelle vostre vacanze. Allora, la maggioranza è quella di Grasso, Renzi, Di Maio, Di Battista, Fico, Zingaretti oppure andiamo a votare. Quale delle cose secondo voi, chiudendo gli occhi, sarebbe più normale in un paese normale? Quale delle due? Io poi dopo, ah, quello ha detto, voglio i pieni poteri, cosa che ha detto Salvini, certo frase infelice, quell'altro vuole andare a elezioni, De Bortoli che dice sul Corriere della Sera è pericoloso perché vuole vincere da solo. Ma di che stiamo parlando? Le elezioni democratiche sono esattamente questo. Voi giudicherete se ha fatto male Salvini a chiamare le elezioni? Voi giudicherete se ha fatto male a farlo ad agosto? Voi giudicherete se Salvini ha fatto male a mettere quella firma sotto al decreto dignità che fa orrore? Voi giudicherete se è meglio votare l'uno o l'altro? Non i giornali, non io, non le zuppe, questo si chiama democrazia. Poi possiamo anche, voglio dire, alcuni liberali nell'Ottocento neanche lavavano tanto la democrazia, quindi possiamo anche abolirla volendola. Quindi la mia lettura di questi giornali stanchi di dieci giorni, insomma questa zuppa settimanale che mi sono permesso di fare è che Messina, De Bortoli, Corriere, Repubblica, tutti a dire che Salvini ha sbagliato. Certo, certo, può aver sbagliato, ma non lo giudicano loro, lo giudicate voi se ci permetteranno di andare a delle elezioni. È simple as that, direbbero qua. Non c'è molto più da discutere, non mi sembra che le elezioni siano una specie di veleno da inoculare nel corpo democratico italiano, a meno che non si consideri il veleno il corpo elettorale democratico italiano. Insomma ragazzi, tra poco torniamo, anzi spero che Quarta Repubblica parta a settembre il prima possibile. Nel frattempo giochiamo d'azzardo. Ciao!